Se c'è un corpo di polizia che mi fa sempre tanto arrabbiare è quello dei vigili quando fanno certe multe veramente mi viene il sangue al cervello però in realtà oggi qui a Torino, al Salone dell'Auto c'è una grande novità perché la 458 Italia dei vigili del Comune di Milano è qui presente sullo stand. Guardate che bella ovviamente ha i colori della polizia municipale, della classica vettura della polizia municipale non è però un dono di Ferrari, non è un dono di un collezionista ma è una vettura, la 458 Spider, sequestrata alla criminalità è stata confiscata nel settembre 2015, è entrata in servizio, mettiamola così ed è stata convertita dalla carrozzeria Marazzi di Varese la conversione riguarda ovviamente la grafica che è esattamente identica a quella delle vetture in uso ai vigili di Milano poi riguarda l'introduzione delle sirene, guardate quelle qui, all'altezza dei roll bar la vettura è la Spider quindi volendo potrebbero anche andare in giro scappottati la numero 458 è il logo del Comune di Milano, il logo di Marazzi che ha curato la conversione poi per quanto riguarda gli interni direi che ovviamente a parte la paletta per fare le multe oppure per fermare il malcapitato di turno c'è il sistema di comunicazione radio eccolo qui sotto alla plancia la vettura come al solito è molto bella, bellissimi gli interni come vedete non ci sono grandi personalizzazioni perché comunque la vettura viene utilizzata da 6 vigili che sono stati addestrati all'utilizzo di questa vettura sono persone che hanno un passato agonistico magari sono degli istruttori di guida e appunto sono abilitati alla guida di questa 458 Italia tanta roba complimenti ai vigili di Milano soprattutto se avete il motorino truccato o la macchina truccata eccetera eccetera fermatevi subito perché sanno questa, vi beccano immediatamente ovviamente scherzo, fermatevi anche se hanno la punta naturalmente bravi vigili di Milano che portano in giro questa vettura per manifestare come la criminalità si possa combattere anche convertendo delle vetture di lusso che erano state acquistate con dei soldi della malavita in automobili utili alla società con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su Youtube, su Facebook e naturalmente su Automoto.it Ciao Grazie